allora siamo il primo titolo della stagione complimenti il nautico è stato comunque insomma vi ha messo sotto secondo tempo hanno giocato avete giocato tutto tutto il nautico è contenti di questa vittoria va bene comunque un precampionato tu hai fatto un debutto eccellente sei stato bravo complimenti si ci voleva dire qualcosa no no tutto bene bene che partita è stata una bella partita sportiva diciamo di questo è lo sportivo per eccellenza il calcio di rigore l'ha tirato fuori bravissimo è così che si fa contenti siete moratti per eliminato la possibilità allora capitano infortunato però insomma il tuo team il tuo team diciamo fantastici il miglior team che potresti desiderare bene antonio beh ci siamo divertiti la sua cosa è fatta comunque è una finale a tutti gli effetti insomma raggiunge la finale comunque è già un traguardo per essere un precampionato ci siamo divertiti è stato sofferente questa sofferta questa è sofferta bene Gabriele va beh poteva andare meglio va bene comunque dai bravi ragazzi bravi grazie 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 grazie